Stiamo parlando di ordinanze, non è che è stato affidato il servizio, diciamo, quello della gara ponte dei sei mesi, perché c'è un giudizio al tarre, come al solito, come ormai avviene spesso. Si tratta di un'ordinanza che si affida il servizio fino alla fine di gennaio. Ricordo a tutti che i centri comunali di raccolto, la pesatura, è qualcosa che ha voluto chi oggi vi parla, insieme all'ex sindaco e all'attuale sindaco. Quindi è un elemento di novità che abbiamo introdotto noi, che prima non esisteva, quello della pesatura, al quale teniamo sicuramente quanto i cittadini e forse anche più di loro. È ovvio che in un passaggio di consegne ci sono dei problemi, comunque in parte sono stati risolti, altri devono essere ovviamente migliorati. Per quanto riguarda quelle mobili, abbiamo avuto un incontro questa mattina, dovrebbero partire verso il 20 gennaio, dovrebbero essere attive anche i centri comunali di raccolta, chiamiamoli le isole ecologiche mobili. Poi è ovvio che si tratta di implementare alcuni servizi, ma ribadisco e ripeto, stiamo parlando di un servizio affidato con un'ordinanza sindacale. In mancanza ancora del nuovo calendario, come sta funzionando la raccolta? I giorni di raccolta rimangono assolutamente identici. Poi abbiamo chiesto, e lo deve fare a Tecla, di pubblicizzare il calendario di raccolta. Dopodiché i giorni rimangono assolutamente uguali. Probabilmente ci può essere qualche modifica che ci è stata proposta rispetto al calendario, ma finché non viene raccolta e non viene chiaramente portata con conoscenza della cittadinanza, è ovvio che il calendario rimane assolutamente quello di oggi. Poi rispetto all'avvio della differenziata, vorrei anche ricordare che è tutto legato a quello che è accaduto in precedenza. Chi aveva il servizio in precedenza era un altro soggetto che avrebbe dovuto completare le forniture, non mi stancherò mai di ripeterlo questa cosa, e avrebbe dovuto completarle già col precedente capitolato, col precedente servizio. E ciò non è avvenuto. La Gara Ponte aveva, il servizio della Gara Ponte era un servizio di raccolta porta a porta perché il precedente gestore avrebbe dovuto completare lo start-up e il porta a porta. Ricordo che il servizio è stato affidato nell'1 giugno 2017 al precedente gestore, ricordo che lo ha gestito fino all'9 dicembre, quindi stiamo parlando di oltre un anno e mezzo per lo start-up. È vero che il 29 maggio c'è stata la sentenza del CGA, ma c'era già stato un anno, doveva essere completato entro il 13 giugno e questi sono fatti che non possono essere contestati. Poi di chi saranno le responsabilità o di chi sono le responsabilità, questo verrà verificato e viene dal dirigente e vedremo cosa accadrà. Quindi per gli ecosportelli, ad esempio, così che magari ognuno possa anche avere contezza per la propria zona, la zona alta è ancora parzialmente scoperta? Allora ribadisco, la Gara Ponte aveva ad oggetto un sistema di raccolta porta a porta già avviato perché si presupponeva, perché faceva parte dell'adempimento del precedente servizio che venisse completato dal gestore uscente. Chiaramente questo ha cambiato le cose, ha creato delle difficoltà perché, ripeto, Tecra si era giudicato un servizio, poi c'è stata l'ordinanza del TAR, la sentenza del TAR di Catania, per un sistema di raccolta porta a porta e non misto, porta a porta e cassonetti stradali. È chiaro che stiamo da due settimane valutando come andare a completare il resto della città perché, peraltro, ci risulta che il gestore uscente avesse già un deposito per parte dell'attrezzatura, chiaramente quindi è necessario fornire l'attrezzatura tutta grotta santa, non è stata fatta la fornitura, quindi è un sistema complesso, è un sistema che doveva essere già completato e prima o poi qualcuno dovrà verificare che sono le responsabilità. Così come era stato già previsto, è detto e scritto rispetto a una direttiva del sindaco del 20 dicembre del sindaco, che è quello relativo all'acquisto delle fotocamere. Sono state acquistate, si parla di decine di fotocamere, e questo è il tema del controllo che diventa molto importante perché al di là del sistema di raccolta, cassonetti, porta a porta, è indubbio che obiettivamente ci sono molti cittadini che nonostante tutto continuano imperterriti a sporcare la città e questo non c'entra nulla con il servizio, con il tipo di servizio. E l'altro tema è quello che verrà a brevissimo, credo tra domani e dopodomani, ci dobbiamo solo confrontare su alcuni aspetti tecnici, verrà adottata dal sindaco un'ordinanza nella quale vi sarà un inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori. Stiamo parlando di sanzioni che vanno dai 300 ai 3.000 euro, con la possibilità di pagare anche in misura ridotta entro 60 giorni di 600 euro, ma, ripeto, ci sarà un inasprimento delle sanzioni amministrative per chi sporca, per chi non segue le regole, quindi nulla da temere per chi è abituato a seguire le regole. Molto da temere per chi non è abituato, ripeto, questo insieme alle fotocamere credo che possa essere un ulteriore tassello nel complicato e complesso sistema di raccolta. Poi come amministrazione comunale inizialmente siete stati prima comprensivi, poi tolleranti, poi morbidi, adesso basta. Sì, allora, la differenziata dove è già avviata è partita da oltre un anno, credo che ormai lo sappiano tutti come si debba differenziare, poi ci possono essere disservizi ogni tanto, qui non c'entra niente nel gestore uscente, nel gestore entrante, qui è un aspetto di civiltà, è un aspetto di semplicemente di seguire le regole. All'inizio è stato detto di essere tolleranti, sempre rispetto alla legge, credo che ormai il tema della... diciamo, i tempi sono passati, è stato ampiamente pubblicizzato, tutti sanno quali sono le regole e credo che non ci sia nessuna giustificazione per sporcare.